Hello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo incredibile video, anche io non ho visto niente ma so già che è incredibile Video di Minecraft Big Vanilla perché oggi sono con il top designer del mondo e si chiama Marci, eccolo qua Ciao a tutti, ciao a tutti Quest'uomo ha fatto la cosa, mi ha fatto il regalo più bello che io abbia mai ricevuto Mi ha rifatto la casa di Minecraft Mi deve tippare ragazzi perché io ero nella mia casa vecchia quindi non so dove vado a finire se entro Quindi entro, vado Vai, 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 vai Ci sono? Vado Eccoti qua, ok chiudi gli occhi, chiudi gli occhi Aspetta, non sto guardando, non sto guardando Non sto guardando, sto solo sentendo i rumori strani, aiuto Ti ho preparato proprio una pedana dal quale si può iniziare Ok Guardami, guarda Bene Allora devi fare il giro così e poi andrì Vai Ok No, allora ragazzi, aspetta, aspetta Oddio Che ansia Oddio Vai Oh Cristo Ma cosa sto vedendo Eh, vabbè Eh, vabbè Ma sei pazzo Ma tu, ma tu quel lavoro fai? Un designer di, 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 delle Infatti quanti diamanti vuoi? Niente, niente, niente Posso guardare? Ecco, aspetta, aspetta, ecco il tuo pagamento Eccolo qua Una carne marcia No, ma ci sono i cavalli Bellissimo C'è un lama C'è un nuovo amico per Fernando Si chiama Marci Ma sto male Marci Ma cosa? Ma cosa sto vedendo? Ma cosa vedo? Sono miei? E anche bandi? Siete bellissimi? Mi accudirò tantissimo Allora adesso però Prima di entrare devi seguirmi Ok Devi seguirmi perché Devi vedere La F e la G da lontano Giustamente Perché se no Non ha molto senso Ah sì sì certo No vabbè ragazzi Ma cosa sto vedendo? Cioè io sono emozionato Questo fosse casa mia L'arantano Hai capito? Ok Si sale qua La pedana è fatta a posto Ce la teniamo proprio lì La pedana delle reaction Sì sì La pedana per guardare Sì la casa Ok Eccoci qua Ah è vero C'è la F così E la G a catena E la G a catena Di notte E fa un effetto fantastico Poi ti mando la foto Così la fai mettere In sovrimpressione No Ma sei pazzo Com'è? Sei pazzo Ma come ti è venuta Stai bellissima Ma perché ho detto Voglio cambiare un po' Lo stile Incredibile Perché se no Sempre lo stile fantasy Così ho detto Oggi facciamo uno stile infernale No no certo Bellissimo Una casa infernale C'è anche un po' Cornuta Bellissimo Mi piace un sacco Mi piace un sacco Io voglio Oh fammela vedere Ti prego voglio vederla C'è tutto Guarda c'è tutto Quello che ti sa Non tutto ma quasi Vado Non posso sdebitarmi mai Se vuoi ti dico Quando sono impostore Chi è l'altro Non so come Io non so fare niente Di tutto questo Vado È tutto mio questo Anche quest'albero Tutto tuo Grazie grazie Ti devo un po' di favori Qua Aspetta aspetta Che voglio godermi Tutto anche il grande Ah sappi che c'è un easter egg Poi devi trovarlo È all'ingresso Ah c'è un easter egg Ci sono 62 ceste qua Che è successo Ah ok Va bene Abbiamo farmato Madonna Ma come avete fatto A farmare Siamo andati nel nether Durante il video Ok Proprio nel nether Durante il video Abbiamo farmato Molto di più Di quello che servisse Perché ci siamo sbagliati Comunque Eh no vabbè certo Vieni vieni qua Vieni qua Allora Qua c'è l'ingresso Mamma mia È proprio l'ingresso Dove tu puoi lasciare Le varie cose Non so tipo Perché non vuoi Sbagliare Ok Guarda bene sui lati Ok C'è un cartello Lì c'è un cartello Pesca sciroppante Ah 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 Ho già sentito questo termine Mi chiamano così Grazie Non è venerdata Perché comunque Vado a fare anche tu Poi qua c'è il tuo lettino Carino Caruccio Ok E qua sono le cose Vabbè Poi andiamo su Mi fa scassare Che per salire C'è la liana C'è sono Tarzanio Oh quello che hai chiesto tu Vieni Oddio L'ascensore Si prego Aiuto 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 Che male Vai qua Ah scusa Che non capi Perché dobbiamo andare Nello spazio centrale Prima Vai Va bene Ok Perfetto Eccomi Tutto a posto Ah ci sono gli slime Per tutti No bellissimo Tanza degli incantesimi No vabbè sei pazzo Bellissimo Sei pazzo È bellissimo Poi si sali Ah si può salire Eh certo Non si lascia niente al caso Ok Ti ho messo 4 incudini Perché tanto adesso Ho la farm di ferro Quindi avevo tempo di Avevo ferro da sprecare Va bene Non ti preoccupare Io ci ho messo un'ora Per farne uno È stato bellissimo Va bene Che adesso c'è la parte bella Va bene Ah c'è la parte Questa è la parte brutta Eh sì Questa è la parte bruttina Pensa te Cioè vabbè Vado Ok Perfetto Oddio Questa è la parte grossa Della F Sì Qua è tutto quello che ci serve C'è S che puoi riempire Qua ci sono le fornacce Per qua c'è il cibo velocemente Che sono diversi Ah qua se metto qualcosa Tipo rimane lì sopra Sì sì Bellissimo Ok Ok Poi se sali Qua c'è un'altra parte delle ceste No vabbè Ceste ce ne vogliono un botto Eh beh certo Ma Ti abbiamo creato qualcosa di incredibile Vieni Oddio Cos'è sto ponte sospeso No vabbè ragazzi Ma sto male Vedo anche Vedo anche Piazza Gaulenti A Milano Cos'è Vai mettiti qua Mettiti in quell'angolino lì Mi sono messo Aia È una cesta segreta No Eh sì No Ti voleva proprio Ma tanto Da quanto è che ci si può crauciare? Eh da poche versione Forse da questa Da quella prima di questa Ma sai che non avevo la minima idea Infatti mi sento in Metal Gear Bellissimo Amico mio Che ti devo dire Mi hai fatto una casa stellare E splendida Madonna Sì È bellissimo Cioè poi tra l'altro L'hai fatto veramente Tutto in survival Tutta 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 Sei pazzo La cosa più difficile Ti faccio vedere qual è stato Dai Sì dai Aggiungiamo minuti al video Vieni Vieni Va bene Ci manca solo quella Allora dove devo andare Ah uso lo slime Ok Sì sì Uso lo slime E poi buttate nell'acqua Così attutisci No è troppo Mi farò solo sta cosa qua per ore Te lo dico Perché è divertentissimo Rimbalzare sullo slime Ok Ok Puoi scendere poi Adesso ti dico Praticamente c'è stata una parte Che mi ha tolto solo quella Almeno Un paio No un paio Un'oretta e mezza Ok In due ovviamente Vieni solo giù Sono proprio sceso Sceso Ok arrivo Ok 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 Vabbè a parte il farming Che quello non lo conto Vabbè quello si La catena Ok La catena Che è questa qua Aspetta Come facciamo arrivare lì Di qua Di qua Ci arriviamo La catena ovviamente Fatta tutta con gli scaffali Che ti portano in aria E soprattutto Vedi queste liane rosse Queste liane rosse Sono fatti in modo Che non crescano più Cosa bisogna fare Sì bisogna mettere Praticamente una stringa Vedi che se tu inquadri Cosa ci sono delle stringhe Non romperle ovviamente Ah no Sì sì Sono per non farle scendere Sono per non farle scendere È stata una cosa più difficile Sta a fare tutte quelle robe lì Cadenti diciamo Madonna Bellissima Cosa sono queste stringhe scusa Ragnatele Sono no Sono si chiamano proprio string E basta Ah ok No vabbè ragazzi Non so che dire Ma che casa stellare Bellissima Ce l'ho più grossa Di Stefe Fere Grazie Madonna Non me la sarei mai immaginata Così bella Cioè quando ti ho detto La F e la J Ho detto vabbè Farà una Tra la mia testa c'era F e J Tutte di metallo Bianco Basta No ma perché Non mi piaceva l'idea Di fare solo due lettere Cioè non era bello Così che si vedono E non si vedono Mi piace Chissà Fernando Che cosa ha visto In tutto sto casino Cioè Avrà visto un casino Hai dei lavori in corso Così non si sono mai visti Zì Meno male che c'eri tu E non io Avrei trapanato Fatto cose Bellissimo Sono troppo contentato Anche gli alberi Mi hai fatto Cioè è incredibile Sì ti ho fatto qualche Dai non ho fatto tutto E che non ci ha faccio Pazzesco Pazzesco Amico mio Tutti i materiali Che sono rimasti Sono tipo un bel po' di quarzo Che tanto avevamo Il piccone con la fortuna Me li tengo Come quando ti fanno Le piastrelle in casa E ti tieni Te le tieni Per cambiare piastrelle Vabbè Bellissimo No vabbè Veramente Non so veramente che dirti Perché è veramente Troppo bella Niente niente L'ho fatto con piacere A me piace costruire Allora ragazzi Questa era la casa Che Marci Mi ha creato Io veramente E baddi e baddi E baddi e baddi Scusate No vabbè Diamo il merito Anche a baddi Ci mancherebbe altro Anzi devo farli Anche lui gli do Un altro pezzo di carne Non ce l'ho Secondo te un pezzo di dirt Va bene lo stesso Forse un pezzo di dirt È meglio È meglio vero Guarda ne ho un po' Allora poi gli do quello Bene Sono contentissimo È anche più alta delle nuvole A quanto vedo Meglio di così Non potevo immagino No veramente Non mi sarei mai immaginato A parte gli scherzi C'è pazzesco Sono troppo Guarda quella di Steph Guarda Guarda Ultima cosa Ultima cosa Fai la reaction Alla foto che ti ho mandato Su Whatsapp Che è Di notte con le shaders Questa ragazzi È così Mamma mia Di notte con le shader È così Totalmente Ma veramente Non so che dirti Sei un fenomeno Tra l'altro Che grafica c'hai su Minecraft Tu hai queste shader attive sempre No 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 Queste le metto solo per fare gli screen E le foto per Instagram E basta Veramente la casa più bella Che io abbia mai visto Cioè Sei un fenomeno Bravissimo Ragazzi Passate direi tutti sul canale di Marcia Iscrivervi Perché non so In che altro modo ringraziarlo Cioè la gente Mi ha fatto la roba più Incredibile del mondo Poi hai fatto tu Making of di sta roba No? Quindi si potrebbe Sì 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 Però il mio video Non l'ho fatto vedere tutta Quindi si vedrà solo nel tuo video Ah ok 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 Però vabbè Almeno c'è un making Quello me lo guardo anche io Perché Questa è la mia casa Di Minecraft Nella Big Vanilla Che ho fatto io Nessuno mi ha dato una mano Perché io sono il miglior Costitutore di Minecraft E nessuno lo può negare Spero che il video vi sia piaciuto Guarda È talmente bella Che vengono gli animali Qua a vedere È troppo bella Anche gli scheletri Hanno le robe incantate Della serie No vabbè Non possiamo avvicinarci Se non ci incantiamo le robe Perché qua Ci fanno un mazzo tanto Bellissimo Comunque vabbè ragazzi È bellissima sta roba Sono troppo contento Giuro Ci vediamo Nel prossimo video ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Un bel commento E andiamo a sfruttare Nei prossimi video Questa casa Mastodontica È bellissima Bene ragazzi Ciao 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 Ciao